Mastro, è maggio. Lo sai cosa vuol dire? Che da oggi io vincere dopo un mese. Bravo! E anche nel mese di maggio, appaio! Le luci le faccio io, se no, ti auguro. Siamo a Pisa, siamo qui per una gara importante. My brother... Ciao! 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 F***! Ciao! 5 euro! Ancora! Ho finito i soldi, forse dateci il ferro! Venite qua! Ciao! 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 No! E' un po' di f***! 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 Buona parte! La stessa piena Te lo dite il premio, abbiamo vinto Grazie Ti prendi una pannaotta o... La pannaotta, ti prendo una pannaotta Io prendo una fettina o pinoli Siamo felici e abbiamo vinto E' solo l'inizio Ciao Ti apposto? Ti sento apposto Allora ho portato questa roba per Massimo Perchè quando non sai che fare ne lo gioca, ok? Devi sciarci Manda un draft Ora Che hai fatto? Un pulcino Un pulcino pallino Vieni dal sabato, perchè? No Perchè? Perchè no, piove Anche oggi è finita questa splendida giornata di ringhi Buongiorno Ti hai rovinato una gioia Ma perchè? Perchè ti fai scipire il sushi A me ne fai un tipo a te Invece mangi il sushi Ti mangi sempre Poi volevamo la carbonara E la pizza miuspera e salsiccia Urukami Gengis E sgancis Siamo al sushi Nell'interspazio Grazie per averci salvato Non c'è ragazzi No Cinque euro Ancora? Cinque euro Buongiorno Hai preso la moto Sam? Sì Sto comprando Mostraci Ora non si può vedere Sono tutte inventate da me Dove sveggiare? Auguri comunque Venerdì bellissimo Dai 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 Buongiorno Dove volevi andare scusami? Sì La sigla dell'episodio 8.04.24 Ci sono quattro draghi Sì Che giorno è oggi? È il giorno del mio compleanno Auguri adesso Grazie prego non c'è Dio Ciao Fammi una foto con Gesù Ciao Babu Haram Ciao Babu Haram C'è Dappo sta rifendendo lo schermo Ma che dici? C'è? Sono rivoluzione da Dappo? Sì sei famoso già Davide è andata Non risponde male ragazzi Ora non è bella questa notizia Pippo Pippo Non lo sa Che quando passa a ridere dentro la città Sì 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 Che giorno è oggi? 25 È la tua comunione Aurora Sì Quanti anni fai? Non faccio anni Solo la comunione Ah Devo prendere una cosa schifosa Ovvero? Pane e vino È un'ostia tolta Lo andiamo a inzuppare nel vino Te? Come stai? Tutto appunto Vediamo che non piove E voi il vino? Com'era? Schifoso aspro Ha fatto le foto papo? Ha fatto un bel lavoro Il lavoro Che sei? Com'è andato il pranzo? Buono? Buono Tutto eccezionale Ciao Aurora Ciao 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 Jurgen Buongiorno A lui A lui Simo Grazie mille 49 56 Ma è molto bene Sì davvero E te? Un regalo per te Grazie Bellissimo Ti piace? Madonna Ti piace? Grazie mille Lui ha il pomeriggio Andato dal barbicchiere E qui ti sarebbe stata più carina Giulia dove vai domani? A fare rafting Perchè? Perchè? Perchè così posso farmi la doccia Vediamoci qua ora dai Vieni il caffè Io ho uno Andiamo dai Ciao Ciao Come stai? Bene Come va la Fujifilm? Bene Molto meglio di questa Sì poveraccio Fugilette E niente Siamo qui alle ore 20 e 10 per consegnare il regalo di ritardo a Alessio Chiesi C'è una calza della Befana La fortuna Grazie Grazie Oddio Oh My glass Fugilettino 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 Erocia Ooooooooooooooooooooooooooo Oddio oddio OHHH!!! OHHHHHHH!!! OHHHHHHHH!!! OHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Che bel regalo! Ho visto? Sei Bebata! Si! Non ho la possibilità di far già la bizza! Oddio! Siamo venuti a sapere e te rubi a Pandora! Ma non è vero! Ho 75% di sconto! E equivale a rubare! Tanti auguri a te, Andrea, 25, 25, tanti auguri, ciao, 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 te l'ha già detto, 5 euro, ciao, ciao, perché c'è tutto questo verde qua intorno a te, te sei tra poco lo saio, sei emozionata o no? Sto emozionatissima. Vabbè, ragazzi, come è? Come fai? 21 giorni e non fai cosa? La cacca. No. E da quant'è che non fai la cacca? Vigila. Caro, è l'ora del tuo video. Dove andiamo? Non me lo ricordo, Tania, dove andiamo? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. No, 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 no. Siamo arrivati? Le fattorie di Caneto. Brava. È pronta? Prontissimo. Ciao. 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 Non si vede. Bravo. Eh? Ma che senti? Felice. E tu? Felice. Ciao a nozze. Oh, aspetta, ma oggi è sabato, non siamo venuti all'ufficio. E infatti, ma dove siamo? Come siamo? Come siamo? V? Non lo so. Teletrasporto. Sei un ottimo regista, ma... Lo so, grazie. Sei contenta? Che tettina? No! Supremazia. Supremazia. Questo maggio è stato molto bello, vi voglio bene. Ciao. Ciao.